Un minuto. Che cos'è un minuto di fronte alla vita? Quanti minuti ci sono in un giorno? Quanti? 1.440. Che in una settimana sono 10.080. Che in un anno sono 525.600. Che in 100 anni sono 52.560.000. Marina! Ma non pensiamoci. E dedichiamo uno solo di questi minuti a nostra disposizione per assistere alla musical più breve del mondo, signori. Il primo musical in un minuto. I'm sleeping in the rain Just sleeping in the rain Watch your glory still and go Have you again I'm done when I can With every friend I'm singing Just singing Is the rain It's the rain Eh Ellie Lauren Tell for you You gave me insight When I'm說 toernate Time Love will trie Hey Love is the sky All day for the world Come Come 的人 Grazie a tutti. Grazie a tutti.